ClimaBlock è il sistema costruttivo che permette una posa in opera veloce e precisa. La costruzione con ClimaBlock consente di eliminare lunghi passaggi costruttivi rispetto all'attuale stato dell'arte. Pur ottenendo il medesimo setto portante isolato tradizionale, con ClimaBlock si rivoluzionano le fasi di posa, con la contemporanea disposizione di casseratura ed isolamento, riducendo così i tempi di costruzione. Le operazioni sono semplici e veloci e la leggerezza degli elementi rende agevole e sicuro il lavoro dei muratori. Piccole squadre composte da un esiguo numero di elementi possono realizzare complesse strutture di cemento armato, anche senza disporre del parco macchine e delle costose attrezzature solitamente necessarie per questo tipo di operazione. I casseri non richiedono malta o collanti particolari, in quanto sono dotati di incastri di precisione che permettono di montare velocemente il sistema. In pratica è possibile quantificare in appena 32 minuti il tempo necessario per realizzare un metro quadrato di muratura, compreso il getto, l'armatura e i ponteggi. Le operazioni vengono effettuate manualmente e in piena sicurezza. Si parte da un angolo esterno e, per creare il primo corso di elementi, si prosegue accostando i casseri previsti. I distanziatori, che uniscono i pannelli in EPS del ClimaBlock, sono dotati di apposite sedi, atte ad ospitare i ferri dell'armatura orizzontale, che viene quindi integrata con l'armatura verticale. I successivi corsi si realizzano sovrapponendo e agganciando fra loro i singoli blocchi, fino a raggiungere l'altezza desiderata. Il sistema viene quindi puntellato, onde assicurare l'appiombo e l'allineamento corretti. Il getto di calcestruzzo si esegue con metodi tradizionali, come per qualsiasi cassa armatura per muri in cemento armato. I casseri sono dimensionati per poter sostenere un getto a tutta altezza, 3 metri, che deve avvenire per strati intermedi. Grazie all'impiego dell'elemento speciale denominato spondina, la costruzione del nodo muratura verticale solaio orizzontale risulta facilitata e si adatta alla realizzazione di qualsiasi tipo di solaio, sia esso in latro cemento, che soletta piena, che legno, che ferro o altro. Con l'elemento clima bloc spondina non vi è interruzione dell'isolamento termico, non si creano punti termici e conseguentemente si evita la formazione di muffe all'interno dei fabbricanti. Le aperture per porte e finestre si possono ottenere con estrema facilità e senza l'ausilio di mano d'opera specializzata. Il sistema Climablock è predisposto per la posa di controtelai o false casse di sostegno, sui quali successivamente andremo a fissare i seramenti. Già nella fase di montaggio dei blocchi Climablock si posizionano in modo facile e preciso i controtelai, che assolveranno la funzione in primo di contenimento del getto, per poi diventare cassamate, in perfetta sintonia col sistema costruttivo, in grado di garantire con una sola operazione le due fasi relative all'esecuzione del getto e dell'isolamento termico. Anche la posa dell'impianto idrico ed elettrico è semplificata. Le scanalature necessarie per sistemare le tracce si eseguono con i classici attrezzi a lama calda, in maniera sicura e veloce e, soprattutto, non invasiva. Gli elementi Climablock sono dotati di staffe, alle quali vanno fissate le finiture interne. In questo modo non è più necessario montare apposite strutture. L'esterno può essere rifinito da una rasatura a cappotto a base cementizia su rete in fibra di vetro o da un intonaco su rete metallica. In alternativa è possibile realizzare anche rivestimenti in pietra, con mattoni faccia a vista o con piastrelle, applicando i materiali di rivestimento sui blocchi Climablock mediante uno strato di colla o malta di cemento.